Un caro saluto a tutti i nostri telespettatori, questo è Spazio Notizia. Oggi vi raccontiamo di un grande progetto, lo facciamo con un ospite, vado subito a presentarlo. Bentrovato al vicepreside della scuola primaria Antonelli, Fabrizio Scozzaro. Bentrovato. Bentrovati. Allora, vogliamo raccontare, visto che contestualizziamo, perché il nostro gradito ospite è vicepreside proprio della scuola primaria Antonelli, ma siamo dentro un istituto comprensivo che è il Marconi Antonelli di Torino. Dove ci troviamo? Così iniziamo a contestualizzare. Allora, ci troviamo in Vanchiglietta, proprio vicino al Lungopo. L'istituto comprensivo consta di due plessi, la scuola primaria, che è proprio sul Lungopo Antonelli, e la scuola secondaria, la Marconi, che è, diciamo, alle spalle di Corso Belgio, in via Asiliano Vercellese. E allora, se io dico Eco Gix in Action, che cosa viene in mente al vicepreside? Perché questo è un grande progetto, un progetto chiaramente legato ai viaggi Erasmus, in un momento delicatissimo della storia, comunque voi ci siete riusciti. Dove partiamo a raccontare questo progetto, come è nato, e poi raccontiamo anche quanti paesi ha coinvolto? Scozzaro. Allora, il progetto è partito nel 2018, grazie a un contatto che ho trovato su Facebook, su un gruppo Facebook. Stavano cercando delle scuole partner, appunto, per essere coinvolte in questo progetto di ecologia e sostenibilità, e grazie all'aiuto della collega referente dei viaggi Erasmus, siamo riusciti a far partire questo grandissimo progetto che ha coinvolto parecchi paesi europei, tra cui noi, e con tantissime attività, coinvolgendo famiglie, studenti, docenti, insomma è stata una mobilità parecchio movimentata. In più, il progetto avrebbe dovuto chiudersi lo scorso anno, quindi settembre 2018, marzo 2020, ma a causa appunto della pandemia l'agenzia Erasmus ci ha dato un anno di proroga e il progetto si è proprio concluso in questi giorni, perché è stato fatto in modalità, diciamo, con didattica a distanza. Quindi è possibile anche fare, effettuare progetti Erasmus, portarli a termine, anche con qualche difficoltà, ma ce l'avete fatta. So che è stato un progetto molto impegnativo, proprio nella sua organizzazione, sia per come poi dovete gestirlo. Quello che mi piace raccontare però è che ha coinvolto tanti paesi, mi viene in mente la Polonia, la Repubblica Ceca, il Portogallo. Vorrei che ci raccontasse anche quanta sinergia c'è stata tra paesi. Dunque, appunto, i paesi coinvolti, a parte l'Italia, sono la Grecia, il Portogallo, la Repubblica Ceca e la Polonia. Sono delle scuole di questi paesi. Ogni scuola aveva un coordinatore referente con il quale ci si interfacciava per le varie mobilità. Le prime mobilità sono partite appunto a marzo del 2018. Ci sono state le mobilità dei bambini della scuola primaria. Quindi abbiamo, innanzitutto, siamo partiti con un progetto a classi aperte delle classi quinte su varie tematiche. Per cui la conoscenza del proprio paese, come obiettivi c'era il potenziamento delle lingue straniere, quindi attività in CLIL. Insomma, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo lavorato tantissimo già qui. In più, proprio un'ottica inclusiva per coinvolgere tutto l'istituto, abbiamo cercato di coinvolgere anche i bambini più piccoli, quindi facendo realizzare dei manufatti, spedendoli nelle varie scuole, eccetera. Quindi la prima mobilità è stata appunto in Portogallo. Sono partiti, le mobilità prevedevano la partenza di due insegnanti e 5-6 bambini della scuola primaria. Partenza una settimana di permanenza. L'attività prevedeva, diciamo così, l'accoglienza degli studenti, era presso le famiglie ospitanti di alunni frequentanti la scuola di accoglienza. E quindi c'è stata anche tutta questa fase, diciamo così, preparatoria di avvicinamento, di conoscenza tra famiglie, quindi scambi di contatto via messaggi, Whatsapp, Facebook, mail, eccetera. Quindi è stata un'organizzazione veramente molto molto complessa, ma c'è stata una grande collaborazione sia da parte di tutti i docenti, sia da parte sicuramente delle famiglie che hanno ospitato. E' un gran coraggio, devo dire, delle famiglie che hanno deciso di far partire i propri figli verso questa grande avventura. Ecco, ed è il coinvolgimento delle famiglie, il coraggio, la sinergia, la fiducia, insomma, che c'è stato in questo progetto, parleremo, ma io farei, mi prenderei un minutino per vivermi un po' di emozioni, qualche immagine l'abbiamo già cominciata a vedere, proprio delle fasi di questo progetto, del suo coinvolgimento, ma andiamo a godercene qualcun'altra insieme. Grazie. 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 E dalle immagini già, insomma, si evince, però vorrei spiegare anche che questo progetto poi aveva alla base un tema fortissimo, che è quello dell'ecologia e sostenibilità. Un tema fondamentale, soprattutto, da far trattare ai più giovani. Assolutamente sì, sembra strano, ma i giovani e i bambini sono particolarmente sensibili a questo tema e sicuramente hanno spesso delle grandi idee, soprattutto in questa ultima fase, diciamo, di chiusura del progetto, dove ci sono state parecchie attività a distanza, sono state realizzate, appunto, l'utilizzo di mascherine per contestualizzarle rispetto al tema del progetto, ma non solo. Abbiamo sicuramente, le attività sono state focalizzate, sono state orientate al riciclo del materiale, quindi, non lo so, per esempio l'utilizzo di magliette usate per realizzare collane, per realizzare borse, borse ecologiche. Importantissima è stata anche tutta la fase della scelta del logo, che ha previsto un concorso in cui i bambini si sono cimentati, appunto, nella realizzazione di un disegno e poi abbiamo fatto una votazione, ogni paese ha votato il logo ed è appunto quello che vediamo appunto in onda. Queste sono le borse che abbiamo realizzato qui in Italia. Sì, stiamo proprio vedendo... Esattamente, sono proprio le borse, le eco bags che abbiamo realizzato qui in Italia con il logo di EcoGix in Action. Borse fatte dai bambini, cucite dai bambini, con l'aiuto appunto di insegnanti chiaramente più esperti, però sono tutti manufatti, fatti direttamente dai bambini, ecco le mascherine. Quanto è importante, allora, il tema è viaggiare, poi ricordiamo che i laboratori sono tutti in inglese e soprattutto questa grande sensibilità verso l'ambiente è comunque un tema molto importante. Quanto li trovate anche cambiati, questi giovani studenti, dopo queste esperienze? Devo dire che, ad esempio, nelle ultime immagini scorrevano le laboratorie che abbiamo fatto con l'associazione EtoScience, che è un'associazione qui di Torino, condotta da divulgatori scientifici e abbiamo svolto delle attività appunto per i ragazzi della scuola secondaria, delle attività dei laboratori scientifici. Devo dire che è il laboratorio che più ha colpito e che più ha sensibilizzato i ragazzi è stato quello dell'analisi delle microplastiche, quindi abbiamo fatto proprio un laboratorio, è stato condotto un laboratorio a tutta lingua inglese ovviamente, è stato condotto questo laboratorio e quello che stupisce è quanto le plastiche, al di là di quello che può essere il visibile, c'è tutto un mondo invisibile della plastica che non si riesce a, diciamo così, che a occhio nudo non vediamo, ma che con opportuni strumenti riusciamo sicuramente ad individuare. E devo dire che c'è appunto una sensibilità maggiore rispetto, una sensibilità e un'attenzione maggiore rispetto anche, non so, anche semplicemente all'attenzione al rifiuto, a dove gettare i rifiuti, ma partendo proprio dalla scuola ecco. Ecco, partendo dalla scuola e come vi dicevo in apertura siamo con l'istituto comprensivo Marconi Antonelli di Torino, con noi Fabrizio Scozzaro, il vicepresidente della scuola primaria Antonelli. In conclusione, guardiamo anche al futuro perché abbiamo visto anche i ringraziamenti agli studenti, ai docenti, alle famiglie. Avete fatto veramente un intreccio di energia e forza. Come guardiamo al futuro? Adesso che magari sarà anche un po' più semplice forse viaggiare. Ma noi ci auguriamo che sia più semplice e anche perché siamo in una scuola in grande fermento, abbiamo appena appunto risposto un'altra call Erasmus, cercando di dimostrare il coraggio e la voglia di continuare a fare senza fermarci. Questo Erasmus che è organizzato dall'ufficio scolastico regionale, non sappiamo ancora le destinazioni, però sicuramente siamo pronti. È una mobilità a docenti, questa volta non coinvolgerà gli studenti, ma soltanto i docenti. Grazie mille per essere stato con noi, averci raccontato questa realtà e questo bellissimo progetto. Grazie a voi per aver seguito Spazio Notizia.